Bene perché comunque i virus, voglio dire Milano è uscita dalla peste e potrà uscire ben dal coronavirus, i virus sono organismi viventi e quindi hanno una loro, crescono, invecchiano e muoiono, quindi la mia speranza è che essendo un organismo vivente anche questo virus muoia e magari con i primi caldi. Sentiamo Rumiz.